Bene, da Roma ritorniamo in Puglia sul Gargano, precisamente adesso facciamo tappa a Rodi Garganico e in collegamento con noi Cristian Stefania per la terza edizione di Motosurf World Championship 2024 unica tappa italiana di qualificazione ai giochi mondiali 2025 che si terranno in Cina buongiorno Cristian, ben trovato a te, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate grazie per la disponibilità perché la terza edizione del Motosurf World Championship 2024 inizia proprio oggi tu sei già al porto di Rodi Garganico mentre la regia ci condivide anche alcune immagini relative a questa disciplina ecco, io ti chiederei innanzitutto in cosa consiste Allora, il Motosurf è una disciplina entrata da pochissimo nella Federazione Italiana Motonautica è una tavola da surf motorizzata che permette a questi ragazzi di sfrecciare fino a 30 nodi quindi sono 55 km orari circa e si sfidano in un percorso molto simile a quello delle motociclette ecco, quando lo sport e la natura si incontrano le nostre stati possono vivere momenti di maggiore intensità emotiva perché una gara dà sempre un po' di adrenalina l'evento si svolgerà dal 6 all'8 settembre quindi suppongo ci sarà più di una gara, Cristian Sì, questa mattina siamo già partiti adesso iniziano le prove libere e nel pomeriggio invece avremo già le gare per la qualificazione quindi sono delle gare ad eliminazione nella giornata di domenica avremo le ultime hit e poi il podio abbiamo la presenza di oltre 130 piloti provenienti da tutto il mondo quest'anno abbiamo la presenza della Corea del Sud dell'America, della Cina, della Turchia oltre a tutta l'Europa quindi quest'anno Rodi Garganico accoglie tutti e quattro i continenti E quanto abbiamo bisogno di questi tempi di sentirci tutti più fratelli ecco lo sport come l'arte per esempio è in grado di quantomeno metterci gli uni di fronte agli altri di farci incontrare e di confrontarci anche come nel caso dello sport però sempre all'insegna del fair play dello stare bene insieme dicevo contrariamente purtroppo a quanto succede nel resto del mondo dove si stanno consumando ancora tante guerre che purtroppo seminano morte, dolore, sofferenza ecco dovrebbero esserci invece solo incontri sportivi dove ci si può confrontare ma sempre nel rispetto delle regole a tuo avviso quali sono i momenti più esaltanti di una gara di motosurf? Beh come tutte le gare di moto e di auto i momenti più emozionanti sono la partenza vedere questi ragazzi che sfrecciano verso il traguardo ancora più spettacolari sono le curve che loro fanno intorno a queste boe gommate riescono a piegarsi fino a mettere ginocchio e guomito in acqua quindi come una vera MotoGP in acqua è veramente molto entusiasmante vedere questi ragazzi e ragazze perché abbiamo oltre 25 ragazze che veramente sono fortissime e corrono come gli uomini non hanno nessuna differenza sia nei motori sia nelle prestazioni e poi abbiamo i ragazzini che partono dai 12 anni a salire quindi abbiamo uomini e donne di tutte le età e devo aggiungere che quest'anno abbiamo una nuova categoria che è la over e dà la possibilità ai ragazzi un po' più grandi come me over 40 di poter partecipare a queste gare a queste gare scusate ogni tanto troppo diretta qualche problema di linea non ti preoccupare non preoccuparti Cristiano volevo chiederti oltre i partecipanti che ovviamente vivranno sulla propria pelle le emozioni della gara quanti fossero presenti sul Gargano in questi giorni o volessero comunque raggiungere il porto visto che ci saranno gare di qualificazione fino all'8 settembre possono assistere a queste gare generalmente quali sono i consigli per chi volesse assistere a queste gare in questi giorni? allora noi abbiamo iniziamo la mattina a presto già dalle ore 9 faremo delle piccole pause quindi ci sarà tutta la giornata dedicata alle gare nella giornata di domani e di domenica sono le due giornate maggiormente divertenti per gli utenti il consiglio di venire sia nella giornata di sabato che di domenica perché ci sono le vere progetti rare dove la sfida diventa maggiormente accesa tra i piloti per poter arrivare al podio e la giornata di domenica ci sarà la premiazione di solito noi anche la sera facciamo un po' di show ci sarà musica dal vivo ci saranno degli stand per promuovere il nostro territorio quindi noi abbiamo sempre un connubio di sport e tradizione cerchiamo di presentare a coloro che vengono da tutto il mondo il nostro territorio sia a livello enogastronomico che sia portandogli in giro per le nostre coste garganiche che sono bellissime infatti proprio in questo momento abbiamo l'imbarco delle grotte alle mie spalle dove stanno partendo i turisti per andare a vedere queste specie grotte che si trovano tra Peschici e Viest e non appena l'imbarco sarà terminato alle mie spalle partiranno i piloti beh come non citare già che ci siamo per far fare un viaggio ideale ai nostri telespettatori sulle coste garganiche e oltre anche le isole Tremiti l'arcipelago delle isole Tremiti che non è molto distante da Rodi vero? sì sì è vicinissimo è uno dei posti più belli che abbiamo in Italia sono delle isole stupende e consigliamo vivamente di vederle l'imbarco delle isole Tremiti è partito già un quarto d'ora fa stracolmo di gente ancora oggi che siamo a settembre però fortunatamente il tempo ci accompagna abbiamo ancora 35 gradi fuori mare spettacolare piatto quindi invitiamo a sfruttare anche tutto il mese di settembre perché si prevede ancora un'estate molto lunga per vedere le bellezze garganiche compreso anche le isole Tremiti eh sì come dici giustamente tu fin tanto che il bel tempo persisterà il mare settembrino sa regalare anche lui grandi grandi emozioni bene Christian in in conclusione ehm c'è qualche altro qualche altro dettaglio che vuoi aggiungere qualche consiglio per chi volesse venire a Rodi ad assistere alla terza edizione del Motosurf World Championship 2024 sicuramente consigliamo a tutti coloro che sono eh qui vicino di venire a vedere questo spettacolo perché eh come diciamo noi il porto di Rodi Garganico durante queste giornate diventa un porto internazionale sembra di essere a Miami con tutte le nazionalità che camminano ed è bellissimo camminare sul porto bere un caffè e sentire tante lingue eh che che si intrecciano tra di loro e quindi è veramente molto bello e molto emozionante e e poi di approfittare di queste giornate bellissime perché si prevedono tre giorni di sol pieno eh l'estate non vuole abbandonarci come abbiamo abbiamo detto prima perché insomma il mare è particolarmente bello ehm che altro dirvi io aspetto eh siamo qui al porto e sicuramente saranno tre giorni di festa festa internazionale bene grazie un'ultima precisazione mi permetti prego volevo ringraziare in modo particolare la regione Puglia eh il presidente Michele Emiliano il vice presidente Raffaele Piemontese che ci permettono di realizzare questi eventi importantissimi loro tramite i grandi eventi sportivi sono il nostro main sponsor e quindi queste attività non avrebbero potuto esserci se non ci fossero stati eh se non ci fosse state la regione Puglia che è così lungimirande e e fa turismo esperenziale perché noi stiamo puntando a un turismo esperenziale tramite le attività sportive portiamo turisti da tutte le parti del mondo per conoscere le nostre bellezze molto bene Cristian quindi appuntamento dal 6 all'8 settembre a Rodi Garganico per assistere alle gare di qualificazione ai giochi mondiali di Cina 2025 di Motosurf eh grazie per essere stato con noi Cristian buon lavoro e buona terza edizione di questi campionati di qualificazione grazie a voi grazie a tutti gli spettatori grazie buon buon lavoro ancora a te dunque Cristian noi ritorniamo eh in in studio e io do nuovamente la linea alla regia per una nuova pausa pubblicitaria avete tutto il tempo per continuare a inviarci i vostri scatti ecco se magari anche qualcuno di voi è ancora in vacanza nei pressi del mare o in montagna oppure semplicemente da casa sua aprendo le porte eh delle finestre delle imposte per farci vedere appunto che tempo c'è dalle vostre parti non dimenticate dunque di scrivere il vostro nome da dove ci state scrivendo anche per capire se questa estate di cui si parlava solo qualche istante fa con il nostro ospite è così calda e davvero dappertutto oppure se ci sono piogge e temporali e da qualche parte d'Italia a tra poco a tra poco Grazie.